Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Eleonore Ferruzzi è legata a Pamela Prati già da prima del Grande Fratello Vip in quanto c'è un inedito retroscena che le unisce Eleonore Ferruzzi è una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip In pochi giorni, infatti, è riuscita ad attirare tutta l'attenzione mediatica nei suoi confronti, facendo passare in secondo piano tutti i suoi compagni di viaggio Fin dal suo primo ingresso, il pubblico del piccolo schermo l'ha accostata fin da subito con Pamela Prati perché considerate le macchette della settima edizione In molti però Noon sanno che le due sono legate da un inedito retroscena di cui non tutti sono a conoscenza e probabilmente nemmeno la showgirl stessa lo sa altrimenti Noon sappiamo se continuerebbe a rivolgergli la parola considerato che riguarda un periodo che Noon la rende particolarmente orgogliosa Ovviamente ci riferiamo al periodo in cui pensava di aver trovato l'amore della sua vita al fianco di Marc Caltagirone Eleonore Ferruzzi e Pamela Prati sono legate da un vecchio retroscena prima del Grande Fratello Vip e soltanto i veri intenditori della cultura pop-trash ne sono a conoscenza Pamela Prati è stata al centro dell'attenzione mediatica per il caso di Marc Caltagirone, in cui si dichiara essere stata vittima di una truffa amorosa In quel periodo tante sono state le parodie create su questo caso, il mondo del web ne era pieno e tra queste non è mancata quella realizzata da Trash Italiano in collaborazione con Eleonore Ferruzzi, che ha avuto uno scontro di fuoco La concorrente di Alfonso Signorini aveva realizzato in quel periodo un brano intitolato Buona Primavera in cui si trattava in maniera ironica l'intera vicenda Il brano purtroppo con il passare degli anni è stato eliminato da tutte le piattaforme Il motivo di tale sparizione non è al momento conosciuto, ma su YouTube è possibile trovare una video reaction al video che trovate poco più alto per poter recuperare il tutto Eleonore Ferruzzi ha realizzato una parodia sul caso Marc Caltagirone, ma chissà che ne penserà la sua amica Pamela Prati che probabilmente è all'oscuro di tutto Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video